Il 2013 è l'anno europeo dei cittadini e il ventesimo anniversario del Trattato di Maastricht diventa spunto per numerose iniziative a livello locale e nazionale. Torino è stata scelta dall'Unione Europea per un incontro pubblico, dialogo con i cittadini, con Cecilia Malmstrom, commissario agli affari interni, sul tema della protezione nell'Unione Europea. L'incontro si è svolto al Teatro Regio. Questo è ciò su cui andremo a confrontarci con la cittadinanza. Ci stiamo impegnando ad avviare un ampio dialogo europeo con tutti i cittadini di tutti i paesi per capire quale futuro vogliono dall'Europa, dove andare per uscire dalla crisi e decidere quanto spetta anche all'Italia. Dobbiamo uscire dalla crisi, certo, ma dobbiamo riflettere anche su un altro compito importante, fare sì che l'Europa diventi più efficiente, più democratica, più trasparente, più attenta alle richieste della cittadinanza. Ecco perché è così importante oggi e in tante altre occasioni ascoltare quello che vogliono i cittadini. I valori dell'Europa si esprimono soprattutto nella democrazia, nella libertà, nei diritti umani, nello stare insieme, risolvere i conflitti e costruire un futuro insieme. Su queste questioni ho il privilegio di occuparmi di sicurezza e protezione. Stiamo preparando molti progetti per la tutela dei diritti umani e per la cittadinanza, ma sicuramente il futuro deve provenire dai cittadini e non dalle singole nazioni.